Sono 30 gradi. Ma ho notato. Camminate! Ti fai girare il lago. Fate vedere che sapete notare. Non ci si può più noi però. Dai dai! Mettiamoci così al dolce. Si sta facendo i morti. Si affuga davvero. Basta! Siamo avvicinati. Te l'ho fatta anche a te l'insegnante. Certo anche a te. Aspetta a salire. Ora per risalire tu metti il dorso. Alla prossima.